Il grigio delle mattonelle del camminamento pedonale è diventato in pochi mesi color granata a causa della sporcizza non rimossa. La zona in questione è quella tra via Cavallotti che fa angolo con via Cantarini e i frutti degli alberi che costeggiano il marciapiede hanno creato un tappeto viscido e pericoloso per i passanti che lo calpestano. Piccole prugne selvatiche marce che cadendo a terra sporcano la pavimentazione pubblica e accendono la rabbia dei residenti che, trovandosi quotidianamente davanti ad uno scempio del genere, si infervoriscono vista la scarsa manutenzione e pulizia da parte delle autorità competenti. Non è tollerabile perché qui siamo in via Cavallotti, come dicevamo, angolo via Cantarini, zona mare, zona centro. Questa è una zona residenziale, qui non ci sono né zingari, siamo tutte persone per bene. Una situazione di sporcizia così non è tollerabile. Va avanti da mesi, nessuno ha mai fatto niente e quindi ho deciso di chiamare le telecamere TV Rossini apposta per sensibilizzare e per denunziare il fatto, perché oltre a questa sporcizia del marciapiede si trovano anche delle foglie d'albero per terra, qui praticamente non passa nessuno a dare una pulita. Io ho avvisato soltanto voi per adesso e vediamo adesso gli sviluppi come andranno e poi nel caso avviseremo anche il comune, perché comunque una situazione del genere non è tollerabile.